Ciao a tutti, io sono Giulia e bentornati sul mio canale. Come avete potuto vedere il nome del canale è cambiato, quindi vi do il benvenuto su Il Sogno di Merlino. Il Sogno di Merlino è anche il nome della mia pagina Instagram, quindi ho deciso di collegare le due cose. Ma oggi parliamo di un'altra recensione di un altro autore emergente. Il libro è questo qui, Le Nebbie del Tennant. Questa qui è la copertina. Io ringrazio tantissimo l'autore che è stato così gentile da inviarmi una copia digitale. In questo modo ho potuto leggere il primo libro della sua saga, perché appunto questo qui è il primo di una saga fantasy che richiama molto il mondo del mare, come potete anche vedere dalla copertina. Questo libro, premetto, è molto 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 lungo. Sono quasi 800 pagine molto fitte e i capitoli sono lunghissimi, ossia ogni capitolo sarà più o meno di una tantina di pagine, se non di più. Il libro parte molto bene perché inizia subito con un mistero. Sapete che a me piacciono molto i libri che partono subito con una domanda. In questo libro ci sono due storie che inizialmente e per molto tempo continuano ad essere parallele. Abbiamo da una parte il nostro protagonista Aliman e dall'altra le vicende del re. Il re sta cercando di costruirsi un esercito con delle statue rianimate con degli spiriti, quindi con le anime di alcuni importanti guerrieri, cavalieri che erano morti. Mentre Aliman, che è un ragazzo diplomato da poco, cerca di costruirsi una vita e di trovare un lavoro. Riesce grazie ai suoi studi a farsi apprezzare per una scoperta che ha fatto lui, che alla fine non è poi una scoperta, perché non è proprio una novità per il mondo intero, ma soltanto per il luogo in cui ci troviamo. Vi parlo di luogo in cui ci troviamo perché in realtà l'ambientazione è il nostro mondo, ma qui è come se fosse stata inserita una piccola parte in più aggiuntiva e quindi sono nati dei piccoli regnetti estranei a quello che succedeva nel nostro mondo. Quindi possiamo trovare tantissimi richiami alla nostra storia, ci sono i romani, i greci, i vichinghi, ma anche oggetti, giochi, navi appunto, che noi conosciamo benissimo, mentre magari loro nei loro regni non conoscono. Quindi abbiamo il nostro Aliman che inizia a lavorare per un importante mercante e comincia le sue avventure, le sue avventure insieme ad altri amici che purtroppo non conosciamo benissimo perché non vengono descritti bene, insomma vengono un po' accennati, vengono di più descritte le situazioni e gli eventi, ma non i personaggi. A un certo punto queste due strade parallele si incontreranno e non saranno più parallele appunto. Ci sono ovviamente dei luoghi che ricordano le città del nostro mondo che poi leggerete. Di fantasy qui, a parte la piccola parte geografica nuova all'interno del nostro mondo, quindi non è un mondo nuovo ma c'è questa cosa di cui vi ho parlato, c'è giusto la magia del consigliere, del re e dei suoi discepoli ovviamente, per il resto non abbiamo cose in particolare. Il protagonista sinceramente sta un po' antipatico perché è convinto di sapere tutto lui, lui è il migliore, lui fa tutto bene eccetera eccetera. L'idea è molto originale, tutto quello che accade in questa storia è nuovo, è diverso. Il problema è che alla fine, dopo aver letto 800 pagine, non si arriva a una conclusione di qualcosa. Non dico una conclusione del libro perché comunque stiamo parlando di una saga, ma non si arriva a concludere quasi niente. Praticamente questo libro è un'enorme introduzione ai libri che verranno. Sinceramente io l'avrei fatto molto più corto, avrei tagliato tantissime cose che sono inutili alla trama e che appunto potevano essere eliminate e magari lasciare spazio alle descrizioni dei personaggi, come vi ho detto prima, o anche per far capire dove ci troviamo e che cos'è questo mondo e anche qual è la divinità che loro venerano. Quindi questo è il primo libro, come vi ho detto, della saga Le nebbie del Tennant di Laurence Medhi che potete trovare su Amazon in quanto è un'autopubblicazione fatta proprio con Amazon. Io ovviamente vi lascerò il link qui sotto per acquistarlo e vi lascerò anche il link della mia affiliazione. Quindi cliccando su uno dei due link potete acquistare tramite il mio nome, in questo caso io prenderò una piccola percentuale, niente di tolto da voi ovviamente, che poi mi porterà ad accumulare dei buoni per poter acquistare nuovi libri per fare delle recensioni. Quindi se amate il fantasy e se amate il mare potete benissimo leggere questo libro, però vi ho già preparati che comunque bisogna essere molto concentrati per leggere questo libro perché appunto i capitoli sono lunghi e almeno per me non è bello leggere, iniziare un capitolo e lasciarlo poi a metà. Bene, con questo è tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale e anche sulla mia pagina Instagram. Volevo comunicarvi anche che sto per aprire un blog per le recensioni, quindi prossimamente aggiungerò anche il link del blog, spero presto. Pollice in su se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!